bentornati ragazzi allora nella scorsa partita quel pareggio proprio non ci voleva infatti il Bradford ci ha richiappato siamo a meno due però fino a qui tutto bene il Birmingham è undicesimo andiamo allora la doveva saltare Lame mi sembra perché ha preso un bel 6 o un 5.9 e poi Ridalgo pure Parco Giuda e niente Moscatelli si merita un'altra partita è scontento poi tra l'altro i Bagnets è sempre scontento pure si ha giocato Panci dal primo minuto al posto di De Rosi e andiamo così non in colana ma c'è un'altra volta 77 prima c'era la 76 Vico Relli che ha aumentato di un altro un altro punto c'è un bello 82 è tra i protagonisti annunciati del match è il miglior marcatore del campionato sicuramente tra i protagonisti più attesi per questo match ho finito l'accendino si respira una sfera fantastica come vedete sulle tribune con i tifosi subito caldi per le emozioni di questo match ma è già la troia un saluto agli amici all'ascolto da parte da scendere lo spettacolo e le emozioni delle EFL Championship direttamente a casa vostra un match che si pronuncia davvero molto interessante arrivo eh regà non vedo l'ora che inizi cerco un'ascendino speriamo di assistere a un match divertente è ricco di gol gli ingredienti ci sono davvero tutti eccoci avanti 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 ci siamo non voglio errori col Birningham eh guarda tutto ragia bravo ecco migliori il guastafeste bravissimo Filippo che muove dico una cosa a me non è che mi faccia tanto impazzire eh sa giocare discretamente male eccolo ragia no ragia era era facile bravo Kier eh pure Chiaga si si inseda una mossa qua niente sbaglia pure i passaggi più le più elementari Chiaga niente può avanzare sulla corsia ragazzi che riconosciamo dai vai attenzione al tiro bravissimo Filippo è una buona idea Emanuele però un po' è in buona posizione avanza sulla tre quarti azione interrotta bravo vico a tenere di fisico vai ragia guadagna metri ragia non ce la fa più ha l'età che ha di nuovo Nainggolan guarda tutto ma è bravo c'è spazio sulla fascia proviamo con i cross che siamo forti oddio il pallone rimane lì ma prima non c'è prima rete della partita per il Norwich si sblocca dunque il match 1 a 0 dopo 23 minuti d'accordo grazie si mette ben vissi morise vau chiaga Emanuele è buono giro palle di attesa che si aprono gli spazi è buona l'idea niente vigorelli sotto porta sbaglia ma come hai fatto vabbè stava tutto storto però cazzo i bravi muovicciolillo non l'avrebbe mai sbagliato primo tiro della partita ecco bravissimo Filippo che si invola è sempre lui è sempre lui che è malato colore il segno dai chiaga mandalo a Vigo che ha praterie occhio a Vigo è volato prova il destro Vigo fiuma nella leva dall'incrocio mazzo minieri dentro c'è a Pancic non ci arriva occhio a Vigo vola Vigo è la sua mattonella questa vigorelli mamma mia informissima oggi Vigo butta in mezzo Raja per rise che stacca Carriero per chiaga non va ancora Chier riparte riconosce Raja Raja per minieri occhio a Raja che il destro ce l'ha è arrivato il gol è arrivato il gol torna al gol dopo tre partite io mi perdo l'Accendini qui ogni volta da messa l'Accendino e queste le immagini del gol arrivato al termine di un possesso palla prolungato intelligentissimo qui il cassetti appoggiare a Raja che sa che ancora le caratteristiche da bomber 1 a 0 ancora Pancic sempre sul pezzo Emanuele Pancic per rise Carriero allarga tutto Cassetti ancora Carriero Carriero per Raja sbaglia Raja buono 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 ragazzi prestazione eccezionale forse un un po' più lucidi sottoporta niente cambi si continua così bravissimo Raja è da solo però ragazzi seguiamolo Raja per andare è buona per Minieri non sa che fare Minieri ora Raja sbaglia tutto Raja di nuovo pallone recuperato ha fatto molte cose buone nella prima parte di gara occhio ragazzi è stato grande bravo Ghiera bravo Vigo per Minieri che vola Minieri ancora Minieri contrasto efficace si 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 capiscono bene Carriero e Raja si si abajo a apra �bore è una attenzione ragazzi bravo Filippo Binieri provo a mandare Vicorelli troppo lento fuori 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 fallo volare bravo Minieri sbaglia Carriero ma ma che però porco ti va sempre in culo è buono sbaglia tutto vai di gol niente d'accordo grazie vediamo cosa inventa ora bravissimo Filippo e scimusca era buona cazzo mamma mia che ha preso Mosca incredibile Raja esce Vicorelli va a far tre quartista Minieri va a far tre quartista che lo sa fare Vicorelli sempre punta e Raja entra Lame Panci esce grande prestazione di Panci entra Rosi e Chia che è stanchissimo entra Ibagnaz e cambio Ibagnaz di Borise questa parata vale quanto un gol chance importante forse fresche dentro aumentano l'intensità della spinta sembra quasi che vuole guarda che bucio di culo guarda che bucio di culo guarda che bucio di culo se per questo gol lo vedi dalle immagini guarda il motivo qual è disimpegno errato dalla difesa che ha regalato la palla agli avversari a questi livelli queste disattenzioni le paghi caro siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1 a 1 arriva l'intervento del direttore di gara non lo so io armi da che tira fuori ecco qui il cartellino giallo ha rischiato molto Pier dovrà fare attenzione se non si controlla corre il pericolo di abbandonare il campo in anticipo che cazzo era ha aperto l'interno senza inquadrare la bordo beh rosy lo hai fatto a vedere dalla posizione del corpo ma non l'ha per niente colpita bene e non era coordinato porco disse ma hai mai visto un tiro così ma ragazzi hanno preso coraggio dopo questa rete occhia a Sanchez bravissimo Mosca il cassettino non l'aggancia non l'arpiona pallone in mezzo butta via porco dici butta via suo pallone mamma mia che rischio abbiamo rischiato vai Vigo ancora Vigo di fisico non riesce però del possibile vantaggio dai legni vedremo se avranno la forza e il tempo per provare un nuovo assalto bravissimo vola niente niente dovevano fare per forza vanno ecco io risultato che ora è sul 3 a 0 al minuto 86 grazie dunque per l'aggiornamento si giocherà per almeno altri due minuti dai sir lame vai che corri lame vai Vigo bravo Vigo risi per lame carriero lame incredibile sempre al novantesimo incredibile lame il jolly se manca Warner c'è lame non vi preoccupate questo replay dell'azione precedente un gol nato sugli sviluppi di un disimpegno errato da parte della difesa bravissimo carriero a saccare a servire il compagno grande carriero vai Jack si sblocca anche lui in campionato e fischia mamma mia che culo ragazzi che bucio di culo bellissimo andiamo a vedere il peggiore la Nicolardo avevamo partito attenzione 6.1 rosi 6.1 bagnaz però sono entrati dopo quindi niente 6.4 nessuno